salve ragazzi bentornati in questo nuovo video di guida tramontano oggi vediamo come risparmiare batteria sullo smartphone ovviamente questo consiglio che sto per darvi in questo momento va a sommarsi a tanti altri video che ho fatto sul mio canale che mi invito a guardare proprio per quel che concerne il campo batteria quindi come risparmiarla ma soprattutto anche come preservarla segreti e misteri che andiamo a svelare insieme di volta in volta ebbene oggi parliamo di un'app che ci permette di congelare altre applicazioni che girano in background all'interno del nostro smartphone applicazioni che girano in background quando magari giochiamo o usiamo un'app di nome x nello stesso momento comunque un'altra app di nome y un'altra app di nome z e così via stanno comunque girando all'interno del nostro smartphone nel microchip proprio perché comunque quell'app in background deve consentirci poi di ricevere magari notifiche aggiornamenti ed essere sempre pronta magari al lancio e di conseguenza è sempre lì che consuma batteria il nostro smartphone ebbene ci sono tante app sul play store che ci consentono di bloccare nello specifico queste applicazioni che a noi meno interessano perché comunque c'è da considerare che se blocchiamo un'app ovviamente da quell'applicazione non riceveremo neanche le notifiche quindi se blocchiamo whatsapp è normale che in quel momento quando non siamo all'interno dell'applicazione whatsapp non possiamo aspettarci la ricezione e quindi la notificazione per sé che cosa va a succedere nella maggior parte dei casi che queste applicazioni presenti sul play store o hanno la necessità di girare sul nostro smartphone richiedendo i permessi di root sono permessi speciali che ci consentono di praticamente bloccare queste applicazioni senza però avere il telefono con i vecchi dati praticamente sopra di fabbrica cioè nel senso dobbiamo andarlo a sbloccare con un processo che non sto qui a dirvi molti di voi lo sanno altri meno ma comunque non ci interessa è una cosa che comunque invalida la garanzia dello smartphone è difficile da fare quindi non la consiglio tante altre app invece che non richiedono i romi siti root dicono di fare questa cosa di congelare app in background ma in realtà non lo fanno negli ultimi 20 giorni sto provando un'applicazione di romi servizili che troverete linkata qui in descrizione ed è gratuita che ci permette di bloccare queste app in background in realtà il suo funzionamento sembra andare all'80 90 per cento dei casi ossia ogni tanto qualche notifica per esempio delle app che vado a bloccarle la ricevo ancora però è proprio di rado che mi succede quando magari trovo a chiudermi tutte le app recenti all'interno del mio smartphone col tasto sinistro per darvi un'idea ad un senso magari servizili laggo un attimino però giustamente un'app nata da poco sul play store e di conseguenza è normale che il suo sviluppatore ci stia ancora lavorando però intanto funziona davvero la grande ho bloccato una serie di applicazioni che non mi interessava effettivamente avere lì in memoria quando non sono all'interno dell'app stessa e quindi sta giocando molto la mia batteria o quantomeno il mio risparmio energetico infatti prima comunque se bloccavo il mio telefono in un'ora lo trovo scarico il 10 per cento adesso del 5 6 per cento che sembra poco in realtà ma non è una cosa scontata ebbene la più in questione una volta lanciata si presenta in questo modo schermata nera sono ad attivare una serie di permessi tutti attivabili con un tasto di ok nel momento in cui la lanciate e poi sotto in basso potete cliccare tra servizi e applicazioni la voce servizi da tutti i servizi del vostro smartphone quali anche i sensori e varie situazioni all'interno del vostro smartphone che sono vitali quindi non vi consiglio di toccare assolutamente la voce servizi ma vi consiglio di toccare la voce app cliccando infatti in app abbiamo le app in running cioè le applicazioni che stanno in quel momento lanciate che soffriscono dalla batteria di conseguenza e tutte le app in tutte le app possiamo andare a bloccare le app di volta in volta però in realtà non mi interessa quello non vi consiglio utilizzare quella voce lì vi consiglio utilizzare le app in running infatti in running troviamo tutte le applicazioni che in quel momento sono lanciate che magari non stiamo neanche utilizzando quindi vedete quale app effettivamente sta consumando la vostra batteria e per bloccarla basterà cliccare su cliccando su si congelerà l'app per sbloccarla sembrerà strano ma servirà semplicemente solo un altro click e quindi l'acqua passerà da trasparente a non è una un'applicazione molto molto facile da utilizzare per tutti gli utenti android ebbene voi se conoscete qualche altra applicazione che fa lo stesso vi invito a segnalarmela qui nei commenti scaricate questa che a mio avviso davvero ben funzionante almeno per chi non ha permesso di root come me alzo le mani e soprattutto segnalatemi effettivamente se la scaricherete che utilizzo di giova cioè effettivamente se andrete a risparmiare o meno batteria del vostro smartphone bene ragazzi siamo giunti al termine di questo video spero che vi sia piaciuto soprattutto lasciate un bel like per supportarmi non vi costa nulla a voi costa molto a me e di conseguenza ci vediamo nel prossimo video quello di giovedì ciao